Il ministro Campilli ama la pittura moderna, stasera è alla Nuova Pesa, vi si espongono numerose opere di Fernand Leger, c'è Guttuso e c'è Giancarlo Bigorelli convinto solo a metà dell'opera del maestro, c'è Corrado Cagli e c'è Henri Canvaile, il mercante d'arte che ha avuto l'opera di Leger in esclusiva. Stalingrado è una stampa che riproduce un notissimo quadro di Leger, tra le opere esposte la squadra in riposo, un olio del 1951, una donna bruna, una pianta blu del 1950, la statuita rossa che risale al 1930, il compleanno e la famosa gita in campagna del 54.